grande intervento di Furlan che inizia la grande la sua stagione all'esordio Di Lorenzo buon parlone in verticale per Lozano che si gira e gran parata di Furlan sulla conclusione di Lozano Toscano per De Luca angolo di tiro ridotto meglio andare al traversone al volo schenetti doppio Furlan l'ultimo uomo è Gallo che mette giù deve trasmettere lui in qualche modo Furlan fa sparire palla la sua stagione di Lozano la sua stagione di Lozano Napoli che attacca con Di Lorenzo, entra in area il pallone!